A dieci giorni esatti dal Natale siamo qui presso il negozio di Luca e Gloria a Casale per ringraziarlo personalmente dell'aiuto che ha voluto dare a tutti i bambini bisognosi della nostra zona. È un'iniziativa che è partita qualche giorno fa per volere del sindaco di Omenia Marchioni, il quale ha pensato quest'anno di dare la possibilità dei bambini di poter ricevere e poter scartare il loro bellissimo regalo di Natale. Quindi Luca e Gloria in collaborazione con il Comune, la KB, il CIS e Casa Mantegazza ha promosso una raccolta fondi, sono stati acquistati circa un centinaio di doni e questi verranno distribuiti nei prossimi giorni alle famiglie che ne hanno bisogno. La fascia di età va dai 0 agli 11 anni, per cui veramente un grazio di cuore a tutti coloro che hanno collaborato. Siamo contenti di poter partecipare a queste iniziative, anche perché in annate come queste riuscire a regalare un sogno a un bambino è sempre una cosa molto bella. Devo ringraziare sia il Comune che l'Associazione Kenzio Bellotti perché ancora questa volta ci hanno permesso di partecipare a questa iniziativa che sicuramente è molto importante e comunque, come dicevo prima, permette di portare un sorriso ai bambini che purtroppo vivono delle situazioni che non sono molto belle.